Sfida sentita in Serie C2 al Laurentum Kids Pomezia a Penta Pomezia. Vuoi perché è un derby, vuoi perché gli ex che scendono in campo sono recentissimi, questa non è una partita come tutte le altre. E a proposito di ex, uno su tutti, Valerio Margani ci mette sei minuti a far piangere i suoi vecchi compagni. L'assiste di Galasso, Penta in vantaggio. Il Kids risponde con una buona azione, ci prova ingenito, il suo sinistro è murato. Corre tanto però il Penta e Margani va vicino alla doppietta personale. Il raddoppio arriva al dodicesimo, Biondolillo si accentra e va potente. C'è poi Babushi, arriva a dire in rete, 2-0 dei ragazzi di Masci. Il Kids però non esce dal match, di Melchiorre prova all'esterno, il portiere gli dice di no. Poi il fallo su Galasso, prima dell'intervallo accende la classica miccia da derby. Ne viene fuori una lite furibonda e solo dopo diversi minuti si ristabilisce la calma. Si riprende con l'occasione per Margani, De Santis e flissa la porta e nulla di fatto. Nella ripresa a Rossoneri i più pericolosi, il tiro insidioso di De Rossi. E poi ancora Kids, sempre De Rossi, respinge il portiere, mentre Puccino sciupa da posizione ottimale. Si fa perdonare il giovane numero 9 con un preziosismo. A liberare Campanile il suo tiro trova il palo esterno. Dopo un po' di sofferenza riemerge il Penta, bello il tacco di Valenza, altro ex per la corsa di Galasso. De Santis si oppone, ma poco dopo la coppia si ripete. Palla furba di Valenza e Galasso di destro trova il 3-0. Riapre la partita però il Kids. Tutte le energie residue messe in questa azione di Tritrini che sfolla l'aria e poi mette dentro. Speranza rossonera che dura 5 minuti. Poi la palla geniale di Margani per Biondo Lillo. Esterno morbido e sono 4 per il Penta. Arriverà poi anche il quinto gol con una sgroppata di Pavan, che in seconda battuta segna e chiude definitivamente la partita. Di lì a poco infatti c'è il fischio finale. 5-1, il Penta fa Penta e riscatta il derby d'andata.